Ok, oddio, farà un mordello di casino. Iniziamo a vedere com'è che si vede la live, a vedere, 7.20, vediamo raga, si lagga, boh, io proviamo un attimo a fare una partita, solo così, a caso, per provare. Ok, la proviamo, oddio, c'ho le shader. Sì, ho sbagliato, non ho tolto le shader, sono un po' scemo. Ok, discrizioni, ok, perfetto ragazzi, in teoria posso anche provare un attimo, a vedere com'è che va la live, se va bene, se lagga o no, oddio, vediamo se, ok, non dovrebbe laggare, non dovrebbe laggare, in teoria, laggare, ho sta paura ragazzi che crashi tutto da un momento all'altro, sono usata ancora per l'audio, però, quello devo ancora mettermi bene, in modo, inizio già a laggare, dai, concentriamoci un attimo sul gioco raga, dai, intanto siamo venuti qua, proviamo a fare questa live, allora, ci siamo, andiamo bene in diamanti, diamanti, io adesso tipo, se si bug, mi toglie un cavolo di blocco, ma che mincavolo, di più, allora, in teoria si dovrebbe sentire tutto bene, rega, in teoria, dite se non si sento qualcosa, lo sentiro io dopo nel video, vedrò se è già a barda, eh, se è già a barda, ok, lo avverò anch'io perché, intanto, faccio schifo, rega, quindi perdo subito, dai, proviamo a fare una partita di chain, una di chain, rega, una di chain, quindi prendiamo il legno, prendiamo la handstone, io spero che si senta il mio augio, stanno facendo una figlia da cazzo, in teoria, eh, boh, ok, in teoria, dovrebbe sentire tutto, spero di se noi mettiamo anche questi pezzi di legno, per caso, sarà inespugnabile questa cosa, tre secondi dopo, distrutto il letto, perfetto, facciamo un ultimo upgrade, facciamo una bronzeforge, non abbiamo mai materiali, dai, il giallo distrutto, dammi un oro, mi dà l'oro, rega, oh, ah, ecco qua, matto mio, to, to dannato per prenderti, eh, aspettami, prendiamo un piccone, e della bulla, ok, rega, adesso lo lasciamo, direi, ecco, andiamo da quel buco, ragazzo, però lui c'ha il legno, quindi bisogna prima ucciderlo, ok, buona come situazione, eh, buona situazione, un cazzo, no, no, cioè, aspetta, il nostro avversario allora è il pink, non è lui, no, è lui, no, è lui, è lui, è lui, il nostro avversario, ragazzi, io provo, tanto mi butta giù sicuro, dai, 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 i bianchi vincono sempre, non lo so, sinceramente, però vabbè, eh, sì, ma di te, no, no, porca c'è, no, ragazzi, non posso fare casino, no, ragazzi, non posso fare casino, eh sì, c'è il cazzo, che ho io, mortacci mia, tanto, che è, il grade, oh, è morto il grade, che bello, sono felice, ragazzi, vi ricordo che questo è solo una prova, quindi, sì, cioè, se vedete, se sentite tipo l'auto, vi capisco, potete anche dire la live, però è solo una prova per me per vedere quello che si vede in video, oh, ma quello ha provato a me, ma come, cazzo, 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 no, bufo di merda, no, regà, 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 no, e questo che cazzo vuole fare, c'ho tra le diamonds, regà, mettiamoli, mettiamoli in base, mettiamoli in base, questi, perché non vorrei proprio perderli, sinceramente, ok, 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 perfetto, 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 lì dove cazzo sta, oddio, che cazzo è sto rumore, ah, sento un rumorino, c'è uno è live, lo saluto comunque, anche se lui non scrive nulla, lo saluto, se è fave gay, meglio ancora, regà, facciamo la sua tacchia, vai, 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 andiamo dall'altro, regà, purtroppo non ho la TNT, sarebbe stata una buona idea, no, non incomodo, ammazzarlo, che cazzo ha fatto, ok, c'ha solo uno strat di vado, vado, va, cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto, vieni qua, vieni qua, vieni qua, ammazzo, 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 vai, 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 dai, cinque secondi, dai, no, cazzo, cazzo, regà, cazzo, regà, però abbiamo rotto un letto, Abbiamo rotto il letto Raga dai 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 Allora Io direi di ammazzarlo Però non per forza Semplicemente Non credo di essere Ne in grado di ammazzarlo Oddio No Sento qualcuno Oh Che cazzo Che è stato? Ah no E l'audio qua La porcaccia vacca Avevo l'audio del telefono Altissimo E l'ho sentito Quello che è successo Marto Mi ha preso un colpo Dobbiamo prendere Mi sa credo di venire Eeeh ma E anche io non te credevo Bufo di merda Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Non vale Non vale Ma la ragazza Mi sta sbaggando Aiuto qui Sbaggami Grazie Coglione E lui muore E lui muore E rido tanto E rido troppo E rido troppo Oh oh Io spero che si senta qualcosa Regale Io sono sentito Sto sentendo qualcosa Io spero di si Madonna Sono sentito un cazzo Non è che minchiavolo Però Mi dispiace Allora Beh non siamo tanti Vivi Cioè siamo cinque Eh Sì sono tanti Ok Io volevo però farmi Almeno l'armatura Io ho dei tanti Sì Sì Facciamoci questo Per adesso Che aiuta sempre Ok Facciamo qua Facciamo il diamante Perché dobbiamo Upcroydare un po' di roba Tipo la spada Un po' di shard Come adesso Ma facciamo il parkour Quanti Quattro Quattro perfetto Per shard Qua però Questo ponti sta un po' To le palle Perché ho fatto male I ponti fatti male Non facciano perché O l'argo Se cado O l'incazzo E cado Allora Vediamo un po' di blocchi Qua Ok Perfetto Riga Allora Sono upgrades Oh yes Baby Ok Ok Ah vero Devo farmi Siamo quattro Stavamo Dai altri due Dai altri due Un altro Un altro Un altro Un altro Ok Ma no Ma perché io schiaccio Vabbè Non sbaglio le cose Non sbaglio tanto Ok Possiamo farci la matura Riga Dai 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 Sto parlando a mamma Sto parlando a mamma E idea Siamoci il blocchi Andiamo al centro No al centro Facciamo il pulito Ci prendiamo un po' di roba Abbiamo preso così tanti blocchi Eh Allora Questo è più o meno bardato Il pink è morto Il pink c'è ancora Quindi raga Facciamo l'assalto al pink Facciamo l'assalto al pink Ragazzi Cazzo meno Io volevo farmi atti Mettissimo I rumori strani I rumori molesti Di minecraft Ah solo un po' di Nah ragazzi Ce lo facciamo Ce la facciamo Dai 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 Altri due No Dacci tu Che non mi dai Un oro Dammi l'oro Guardaci tu Dai un altro oro Un altro oro Un altro oro Ti prego Ti prego Il congiuro Eccoci Ti prego Dammelo Non mi ferro L'oro Oh cazzo Matto mi che bisogna pregare Per avere un pezzettino d'oro Ah ragazzi Dall'alto Dall'alto Vai 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 Dall'alto Dall'alto Un po' di parkour Andiamo Vai Andiamo No Ecco No Non devi laggiare Ok Oh dà Ma posso? Ho paura Ok Ma posso Ragazzi E' caldo Ma tornando Non so cosa faccia Ma che dove Si parco il mondo Lo shift ce l'ho Lo shift Lo più possibile chi c'ha visto, non 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 mortacci mia mortacci mia mortacci mia cazzarola dov'è che cazzo raga ce l'avamo quasi ce l'avevamo quasi purtroppo cavolo ci ha rato male facciamo altri bacchi e andiamo raga sicuramente non lo lascio a cazzo raga 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 e che facciamo devo prendermi altro oro andiamo a prendermi diamanti perché ci serve l'aeronforge però abbiamo anche il ciano qualcosa eh facciamo un salto al ciano vai anche se con tutte queste cose non cazzo raga giuro che se madonna si lagga non è che sto laggando però si lagga se lagga non cazzo allora dai 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 oddio ho stata paura che qualcuno mi frecci male andiamo verso di qua insomma adesso il pin che potrebbe arrivare da qui può andare da mia base ogni volta che vuole quindi facciamo una cosa ecco facciamolo va ma guarda ma perchè perchè lo dico perchè io parlo mortacci mi salto non ce la faccio cazzo allora cosa ci potrebbe servire questo credo ci possa servire ma ci facciamo ancora un arco ragazzi facciamoci un arco un arco schifosissimo con delle frecce ok lui non penserà mai che abbia delle frecce ok non lo vedo quindi in teoria posso ritornare a casa mia nella mia base e cominciare ad andare avanti con la partita non sono io l'unico senza niente ah non lo vedo no raga no raga perchè faccio così cagare con l'arco perchè faccio guarda fai schifo ci metti troppo però ci metti troppo cazzo dobbiamo fare la stessa cosa però dall'alto alto 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 quindi facciamoci un certo metti vinto ria in casa in base sua sai cosa voglio fare? voglio andare a rompere i coglioni come non so che mai perchè lui mi ha distrutto il letto mo io distruggo io non lo so va vieni vieni è E via bulla Via 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 Nuoce questo eh Nuoce tanto Nuoce Nuoce tanto Troio Grazie Francesco di Giovanni Ti amo Tu sei la mia vita Troio Va bene E' un nuovo insulto ragazzi Non ho mai sentito troio sinceramente Ma che cazzo vuol dire troio Vuol dire un cazzo Ma che cazzo vuol dire troio Ma che è al maschile Sì Sicuramente va bene Se ti diverti Ragazzi manca il blu Ma andate a manzare il blu Ma questo cazzo Ha fatto già due Maffanculo Non ci vuole di farne l'altra Allora 8 lindotti Facciamoci un'altra temetta E potremmo andare anche dal blu No? Andiamo dal blu Ci facciamo un po' di silverfish Abbiamo l'arco Non siamo messi male Solo che Solo che Faccio schifo un po' di armatura Quindi non è che mi dai un attimino De momento Per prendermi qualche smeraldo Tipo Sei? No Smeraldini 1 1 1 1 2 Perfetto Give Give me 3 E siamo a 4 Quindi potremmo Farsi una spada Però la spada Non mi interessa Quindi io voglio Ok raga Forse ce la facciamo Perché adesso ne spawn Una 1 3 Dai raga Dai raga Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Oddio Che ansia Perfetto 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 Torniamo in base In una base a caso Eh Cazzo Non ho collegamenti Non ho collegamenti Non ho collegamenti Perché farli Qua con un arco Raga Non ci posso credere Che fail Raga Questo fail Rimarrà nella storia Nella storia Sto qua Non ci posso credere Ho fatto un fail Della madonna Ragazzi lasciate Dislike Per questo fail Vi prego Dislike Perché lo lascerei Anch'io Dislike Per questo fail Madonna Voglio Voi che siete 4 Voglio 4 dislike Adesso Che questo sia l'unico A lasciare Dislike Ragazzi Facciamoci Una 3 3 3 Dai Quando che ci siamo E' tanta Sciala Eh Madonna Che ti stai Che ti stai Dopo ti like Per questo Quella roba Fatta Madonna Che schifo Che schifo Ok C'è la gente Di livello 6 Ma c'è la gente Che Madonna Di livello 6 Go Go Vai 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 Ragazza Puntiamo in 3 Stiamo a lagga Sto a lagga Di livello 6 Madonna Ok E la No dimmi che c'ho Un FK 2009 Bella 2009 Actwoman Come verso di lì Vai 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 Bella Bella Giure Giure L'agga Ma cazzo Quindi lascerò No Non lasciamoli lì Qua Bisogna giocare Per se stessi Non in gruppo Vedete che Pazzo Non c'ho Vai Di livello 6 Ancuna Non cagare Allora Vediamo se riesco Prima di arrivare A dei manigliari Se tutto manca Ah no Sono già arrivati Chi Non riesco a fare I punti Giuro Non riesco a farli Non ho problemi Ok Ci abbiamo Il primo Diamond Cioè Due Diamond Lo aspettiamo Anche il terzo Lo stanno già Bardando E noi Noi no Ma porca Ciavacchina Dimmi che Bardi Bard Io scrivo Bardate Bardate Anche se ovviamente Saranno tutti intesi Quindi nessuno capirà Però io scrivo comunque Per solidarietà Ragazzi Cioè Si scrive Dovevo Bardare io Immagino Se Cioè Questi vanno Ci siamo in tre Mi chiamo Bardi Bardare io Per forza Eh ma Ma questo è destro Non si mi lascia Neanche Dai a Mi 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 Lascio Un Cazzo Bard Accogliere Di Merde Devo Bardare io Addio 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 però si per l'aeron forse ne fai 1,4 quindi ce li abbiamo in teoria si ce li abbiamo perfetto yes aeron anche se volevo l'aeron però che mi rubi ancora loro io ti massacro la famiglia e dammi un altro un odoro adesso mi ascolta siamo amici io e l'aeron la forge un po' di questi e ci prendiamo un piccone scrause ok possiamo andare oh gente ci fai curiando io non so bello gente non voglio stare in base e spazio al centro che bello andare al centro è troppo bello andare al centro perfetto qui c'è un giallo ok qua c'è un rosso ma buonasera rosso mio che volo bel volo che ha fatto ma io voglio contare con l'esmeraldo spero voglio tutta per me si i due esmeraldi portati a caluccia tra 40 secondi ok allora tra 40 secondi è meglio ritornare non ci voglio rimanere ma sinceramente non voglio cadere di nuovo perché la parte di prima era bellissima raga non potete dire nulla era bellissima io cado come un pirla come un pirla come un pirla ma porca davvero mi sto incavando mi sto incavando ma per me si 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 po' lasciare smerad no no dammelo smerad smerad dammelo 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 no 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 eeeh che fai che fai regalo fan no n in apparently muori 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 ah si ah si pensate mi sono preso un colpo ma andate via rossi dentro no la tenetica ammazza ti ci fa fuori allora cosa è che servirebbe oltre di nuovo all'iron quello io ho paura che non si arrivino non è che ho paura ho paurissima se ci sono dei commenti oltre troio ma vabbè dovrebbe essere pure andato ok siamo 4 spettatori vi saluto tutti ah cosa che posso fare castle golden ci stava però siamo messi male di armatura cioè almeno io sono messo male di armatura quindi farò la e anzi adesso scoprirò anche dell'iron e delle del gold per per ciò che per 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 pel per s po castro E sai che sono forte eh, o forse non sa che non sono forte, non so sinceramente, spero che pensi che sono forte, se mi sento forte, non so. Ah, tu cosa vuoi fare, cosa vuoi fare? Mi distruggò. No cavolo, stavo per fare una cosa provata, avevo già in mente di morire, però volevo, cazzo, volevo far fuori il letto, vabbè dai, gg, non ho scritto gg, non ho scritto gg, vabbè che non, se schiaccio la y invece della t, sono proprio stupido. Ritorno in lobby, ok ragazzi, questa prova non sta andando male, cioè, vedo che si vede abbastanza bene, cioè, non lagga, dittimi voi se lagga o no. Ok, allora, che giochi potremmo fare? Io volevo fare un patinettino, e lì si fa vedere se li lagga o no. its sollä, se li laggi, si lide, se è potente o no, il computer, lo ha con me, per il live, quindi mi viene venuto. Perfetto niente. Ho un testo fattore, grazie, vi ringrazio, al ricerco le live, va se, c'è nulla il case, che c'è nulla il cazzo, cazzo, che c'è nulla il cinema? Sì, vabbè, vabbè, dai, da poco inizia, 5 secondi, uff, mi riscusa ancora per l'audio, perché in questo minuto ne faccio altamente cagare, no, come l'ho schievato, come l'ho schievato, come l'ho schievato, come l'ho schievato, è morto, è morto, sono saluto, oddio, di fare il parkour, ragazzi, non so fare il parkour, aiuto, sono proprio io stupido, madonna, non sono capace a giocare, mi viene da ridere, ok, perché io riesco sempre da vedere la live, ammortaccimile, ok, perfetto, abbiamo provato questa, non va molto bene, adesso facciamo una cosa un po' più ansiolitica, una bellissima TNT Tag, carica, è carica, mando, TNT Tag, madonna, ho già paura, ho già l'ansia, dai, fitto il parkour, ragazzi, sarà il parkour, poi il parkour, dai, eh, ma quasi registro un parkour, quasi registro un parkour dopo, una mappa qualsiasi, quasi registro un parkour, no, 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 c'è qualcuno dietro non mi sembra... parkour ecco qual dove era scusa scusa No, no, no. Sta lagando tutto. Sta lagando tutto, sta crescendo tutto. Oddio. Oddio. Non crescere, non crescere. Perché sta lagando tutto. Oh mio Dio. Oddio, che cazzo è successo? Mi chiamava... Mi ha lagato come una merda. Abbuffetto. 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 Aiuto, aiuto, aiuto. oh mio dio è la sua più brutta del mondo cazzo qua bufu cazzo qua ok, vabbè cazzo, ma facci la guarda che la do è guarda che la do guarda che la do è la tua guarda che la faccio qua oh 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 uuuh, uuuh ah, lui mortacci mia che paura, mortacci mia paura, no paura, no paura che cazzo mi la porti addosso, mortacci due ok, nessun mi sta cagando, perfetto meglio, 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 meglio traspettatore ok, 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 chi è lui capito di città uuuuh Mio di foglio del fuoco traspettatore arru tele scherzo uuuuh figlio quattro F.U.:Fuck! F.U.:Fuck! F.U.:Fuck positivo! Uarte! Quanta cazza di gente c'è? aiuto, aiuto, aiuto! noooㅠㅠ portaci tua, portaci tua, portaci tua THEY RANANANANANANANANANANA ma dura non che visto! Dove non ti ho visto? 7 secondi 7 secondi 7 secondi 7 secondi 7 secondi No No Cazzo Ok Aspettate un attimo Ok Dovemmo essere Madonna Ho perso Vabbè stranamente Giuro io sono un pro player Mi dicono Fa bene raga Faccio l'ultimo minigame Vediamo che minigame fare Allora Ma proprio Io di quelli che conosco Ma facciamo una skywars Ma skywars normalissima L'ultimo minigame poi raga Chiudo Che è abbastanza problema Che entro i miei Di rompere le palle Cos'è No 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 Solo normale Ok grazie Ok Grazie L'ultima Raga Vi dico subito Perdo subito Questa cosa è che sono uno in 12 Mi piace Non mi piace E' un default Vediamo Vediamo Ok Ok Raga Uno Perfetto Qua C'è poca roba Si ragazzi Qua c'è troppo poca Oh Ci sono blocchi Ok Direi Andiamo direttamente da uno Ma Dai ti prego Ti prego Ma No ragazzi Facciamo un'altra Perché è durata troppo poco È durata troppo poco Adesso faccio tipo Una serie di skywars Mortacce mia No Vincere una Non ce la faccio Poi se la vinco Raga Fino in bellezza Se c'è L'arma è molto Difficita Io proprio Non ho mai capito Perché faccio E però Non ho un'arma Ho un piccone Allora posso abbassare Ho provato Non ce la faccio Va Ok Ah Siamo divisi Tre Tre Cioè Io che Vengo lì E va bene Io coglione Che mi caldo giù con lui Ma secondo me Ragazzi Hashtag Sono Xdv Scemo Proprio Coglione Fate quel che volete Bastino che tu nasci Che sono proprio Stupivo Come la merda Madonna Dai Almeno arrivare Cioè Almeno non morire subito Cioè Mi viene un po' Anansia Cioè Un po' schivo Vendo a vomitare Se Si perde la mente Per due Allora Una spazzamina Faccio la test Un po' di blocchi Vanno sotto Che cosa va molto E' Venti Benvenuti Qua però Ho visto Ci sono dei diamanti Quindi Dove Non ho la linea Cioè Non ci posso credere Io ho diamanti Adesso non ho la linea Cioè C'è la linea Eh Mi viene un po' di 36 Ma che si ripulla Come una tonnella Ok Vabbè E vale Vabbè Ok Andiamo qua Che cazzo Ma va Al lesbico Vabbè Al lesbico Ti faccio male La vita Hai scappato Eh Sei scappato Dove è fatto Viene Dai Sei andato Viene Perché Sei andato Molto in tana Poi Sono messo Peggio Sinceramente Però Questo è uno Stupido Io Tanto Sono sicuro Che ci muoio Però voglio Provare Ma perché Io ci devo Visto Tutto 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 Ciao Ti piace Ciao Alle Titani Titani Ciao Ok Madonna Che non so Capace A fare Nello Cos'è Sta bello Cos'è Non mi dice Che è figo Come mappa Non capisco Cosa sia Sono dei pennelli Ma che figo Sta bene Ok Vai giù Dai vai giù Porcazzo Zettina Zettina Anche se Qua Ho Dei Ho Diamante Qua Se mi da Un diamante Ho qui Ok Ecco Se riusciamo Farci Scusa Non mi dai Blocchi Scusa Scusa Mi dai Dei blocchi Non dai blocchi Vabbè Dove Come funga Però vabbè Se andiamo dal verde Perché il verde È un colore Bello Ok Qua c'è stato qualcuno Ha preso la cesta Ma sei stronzo Madonna Regà Che dirvi Ne facciamo un'altra Questa che non da ridere Se mi scrivo Ricambi Se vuoi Sì Se ti scrivi Si sei scritto O se ti scrivi Che cazzo Che cazzo Che cazzo Ma manca Che cazzo Ma manca Ah ma C'è il blocchino I suonori Eh Ah Fai quello Blocchi Scusa Che cazzo E poi C'è Ci sono Il suono E le persone Brutte Che 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 Minchia Ma Quanto Sono piccole Stai Minchia Ma Facciate subito Aspetta Mettiamoci Questa Non posso Ok Menni Questa Mi staggiano Lì La Quindi Andiamo 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 Vai 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 Go 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 Amazzalo 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 E basta Mi si sta Onzo Se ti iscrivi Io mi iscrivo Ok Ti sei iscritto Adesso mi iscrivo Scusa Aspetta Vai al canale Scusa un attimo Ok mi sono iscritto Hai tentato che mi iscritti adesso Si io si Ti sei iscritta Non ho capito Chi è che sei iscritto Di chi Non ho capito Cioè Vuoi essere 30 o 29 Vabbè Io mi sono iscritto Al tuo canale Tanto Non mi interessa Se ti vuoi scrivere Bene Se no vabbè Ok Perfetto Sky Ancora sky Sapete adesso Quanti sky Io questo ho fatto Forse ne dicevo E' l'ultima cosa E' sta lagga E' sta lagga Regga Ok Oddio Maddommi Che lagga Perfetto 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 Ok Prendiamo l'ultimo Dov'è 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 Ecco Pensavi Nascondati Il po' Ci mettiamo Un po' di robe Per poterci Anche tanto Moriamo Comunque Ci proviamo Perla con Tutte 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 Ce l'ha trovata Ammazzare Ura Finalmente Ragazzi Abbiamo ammazzato Uno Però Adesso Bisogna Un attimo 5.5 Molto Meglio Ok Timit Ok Regga Ok Comunque Questa Sera piazzata Oh Sbola Che Cazzo Sera Però Un cazzo Non so Quale Nessuno Ok Scusate Se non parlo Ma devo concentrarmi Un attimino Vi prego Un attimino Un attimino Che cazzo Scappa Vabbè Wow Eh guarda Guarda come mi ara Guarda come mi ara Cos'è Mi appena Mi ha fatto A metà Delle ore Va bene Ragazzi Mi stavo Mi stavo Mi avevo preso la nutella Ma poi Ad un tratto Ma che cazzo Stato a dire Ma che cazzo Stato a dire Regà Cos'è Sta roba Ho capito che è notte Però Non è che mi posso Vedere Vare ste cose Ma che cazzo Vabbè Ecco che arriva Claudio Mi stava chiuso Di zeli E comincia Va bene Io non mi posso Dire ste cose Non ne posso Neanche leggere Questi video Ma poi Facciamo un altro Doveva durare poco Ed era una prova Sto facendo La live a casa Non devo neanche Farla Ok 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 Vai 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 No Allora Allora Qua Blocchi Molto Troppe esplosioni Troppe esplosioni Peglie Gusti Ok Ok E qua Il tubo Lo mi va Riconosco Tentini Cannella Manda 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 Mande Guarda che se non mi vuole Mi vuole mettere due Ma pensavi Coglione Ma se mi guarda Mi ha raccuro Ma guarda che mi ha raccuro Sì Dove Ma tu mi Ma tu mi Ale ti 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 io con le elasticiate mi è successo un sacco di volte con le elastici ma va bene ragazzi scrivete quello che volete basta che non mi staginate ragazzi se mi staginate vi tocco sappiatelo potete scrivere tutte le cagate che volete però basta puk, snake, clock diciamo clock perché credo che sia una cosa più semplice si prego ragazzi fate clock fate clock orologio? orologio bravi ragazzi allora un orologio come si fa? lo faccio per terra ragazzi non c'ho mai di farlo al contorno si fa rigorosamente in legno e dentro adesso provo a portare la base allora qua c'è tipo ora c'è la mezzanotte non so se sia un cerchio perfetto adesso non parlerò tanto perché voglio fare una cosa vicente col cerchio si fa così mi tiene nulla ragazzi ma si fa così credo ahiala allora 4 minuti io sto sto struzzi eh mi date poco mi ora faccio così ok bella festa come sto oddio sto mortorio sono tornata oggi sono tornata oggi dalle vacanze beata te le vacanze sono oddio cristo va a mortacci guarda che scrive una ste cose che cosa che cosa se riesco a arrivare primo qua ragazzi chiudo live perché non aveva il gioco va bene possiamo caricare giochi craccati qui sono spiega cazzo allora però non so se seguiamo i commenti qui anche se la finirò solo tipo quella roba che si non la metti vai mettiamo tutto questo bene 3 minuti 3 minuti quindi uff 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 vai vai faccio tutto se quasi la prossima volta metto una mozza sottofondo no così almeno ok ma questo sarebbe il nostro orologio altamente cagare la gente è questo però tipo farei una cosa del genere farei le lancette non so anche cosa tipo questo tipo questa è quella dell'ora questa è quella del no questo è dell'ora questo è il minuto che cazzo io adesso non vuoi stare in due non puoi fare sta ragazzi mi sta venendo una cosa un'idea carina non so ditelo nei commenti se vi piace ok allora non è male però fa schifo non è male ma fa schifo tipo facciamo il contorno così da un po' di profondità non so se dice non so se si dice così profondità 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 oh yes vediamo se rimane bene ragazzi se vinco questa madonna non è che esulto spacco casa vai 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 dai build up 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 ciao non so perché non so perché ho preso il video dovevo fare un contorno ma non lo farò perché è bello così eeeh se mi sta venendo in mente una cosa malata oddio dai lascio così non è neanche centrato ma vabbè cazzo un po' mi triggera sinceramente ciao ciao nolli ciao gr71 ricordo di iscrivervi al canale se volete e di lasciare un like un like ragazzi che ve costa che ve fa cosa faccio ah guarda scrivo tanto tanto non vi no basta non lo scrivo le like ragazzi ma prima a non scrivere nulla vediamo i capolavori delle persone 5 secondi il pavimento il pavimento l'ho fatto il pavimento fa cagare lo so Giulia nolli però però vabbè questa cosa è oddio aspetta fammi salire oddio dai dov'è il cazzo? sarebbe sta roba? oddio no 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 questo questa non è la mia idea di fare il coso però no mi piace scusate un attimo non so che metto putto però già questo ha un senso ok raga va bene ho lasciato un like bravo bravo gf7 71 scusa va bene sì dai carino dai fatto bene questo cosa stava facendo è la madre l'idea è buona do ok l'idea è buona però non è finito purtroppo ti avrei dato good questa è la mia stessa idea e gli do ok tanto per fare ok mi ha lasciato like togli l'audio del gioco ok dopo appena finisce la partita lo abbasso un pochino raga questo cos'è? ma cos'è sta? che brutto è? eeeh dov'è l'orologio? guardate ragazzi mi ha fatto un attimo l'audio più basso vediamo se li ditemi se va bene oddio non mi piace un po' abbassa un attimo l'audio scusate oh dai ragazzi elode 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 vi prego non mi piace non mi piace? mi piace? no non mi ha fatto cos'è? 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 è l'apple watch ok bella l'idea però ha fatto male questo mi ha fatto un po' male non mi piace è fastidioso ah quello del microfono è l'ho scritto anche nei commenti scusate perché non ho ancora un microfono ben messo e lo so scusate se è fastidioso però secondo ok eh sì secondo come? come? cosa? perché? ho provinto sta roba e beh idea era bella però io secondo secondo scusa Giulia ma purtroppo non posso toglierlo devo procurarmi un microfono di quelli power un microfono decente che sia decente eh lo so che questo era fastidio appunto avevo scritto nella live in teoria questa era una prova però dopo ho visto che c'era gente ho detto ma sì andiamo avanti anche tanto è bello il tuo orologio grazie grazie GR7.1 apprezzo il tuo commento apprezzo il tuo commento apprezzo il tuo commento ehm facciamo paintball sai che c'è da un bordello che non gioco a paintball diciamo eh cosa vuol dire paintball ma che paintball che cazzo io non scioppo mai ok no paintball tanto ci sta ho scritto i miei games quindi un pa di miei games fanno ok vai 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 grazie scrivetemi in commenti se si vede bene oltre oltre l'audio che so che si sente la merda però ditemi almeno se si vede bene se lagga o no così almeno capisco se le live le posso fare almeno la notte ditemi almeno questo raga ditemi almeno questo ok tu hai una faccia molto bella come te la dare come ti chiami pacemaker 11000 bel nome è quello l'originalità mi dico proprio l'originalità stil 12 su 24 oh gesù cristo siamo un team 12 v si vede benissimo grazie sono contento ragazzi sono stato contento questa cosa che si vede e non lag grazie per una gr71 già ti amo mi dici ste cose Giulia v Giulia perché hai detto v non lo so ok 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 perfetto live non ho quanto suona in live da mezz'oretta live facciamo ancora qualcosa e oddio come si gioca qua io non mi dico capo quali sono no queste sono si divanti spara spera spera no visto no visto no visto no visto no mi ha ammazzato mi ha ammazzato mi ha ammazzato mi ha ammazzato spara no ma quello dove ho i qui dove gli splash up gli splash up posso ma portacci vostra no quindi basta che spari no adesso si 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 ok andiamo 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 madonna ma chi è ma qui è è il nostro problema no cazzo cazzo no una cazzarola, una cazzarola ho già fatto quante kg? 5,5 kg come ti metto? ho già preso un altro 6 kg bella frana, ciao alessandro seddai seddai i nomi ragazzi non è sicuramente meglio di xd no 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 un altro cazzo un peccato allora nanana scusa perchè c'è un locale che morre e che è successo? perchè è esploso tutto stai andando avanti andiamo ho bisogno di un altro problema ragazzi vediamo 10 kg bella una donna bella frana proprio oddio no 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 cavolo non l'ho visto spara cazzo stiamo vincendo? stiamo vincendo o cosa? eh? è possibile che non l'ho preso? impossibile foto prima ah cazzo ragazzi ragazzi cazzo ragazzi Ho trovato un sardo nella live, ragazzi, lo chiamano così. Perché non l'ho chiamata? Ho trovato un sardo nella live, lì? Vabbè. Ho beccato una calda. Quanti cazzo gli erano dicciuti? Eh, no, no. Stiamo una cazzo di marina. Ah, è stata nervida. Non so neanche di come erdina, ragazzi, non so perché. Cos'è? È stu cazzo, faccio il parkour, ma la faccio vedere. Perché mi becca a caso? Forza miseria, cia. No, no, stiamo parlando. Un po' alto. Cos'è? Stiamo parlando. Stiamo parlando, stiamo parlando. Ok. Non viene a nessuno. Non viene a nessuno, non viene a nessuno. Oddio, raga. Sono... Non sono concentrato. Madonna, le kill. Madonna, mi Cristo santo. 12, 12, 12. Bella l'iove. Poi, ma, sinceramente... Già, adesso non sono... Sono in... Cioè, non sono in... Non sono in Sarlenga. Però sono... Sono sardo. Sono molto sardo e molto portoese, ragazzi. E vivo in Italia. Sì. Avete scoperto la verità. Non va bene, è stato... No, portacci vostro. Cos'è? C'è stata qui? No, no. Non mi piace mai di fare tutte sti qui. No. Cos'è? Chi ha vinto? Boh. Boh. Mi schiamo GG. Vi ci dà più karma. Tra l'altro non mi ricordo neanche di dove sono. Però vabbè, dai. Ci alla. Ok. No, perché sbaglio? Non perché schiaccio i video degli altri. Ok. Due like, ragazzi. Bella. Bella, regà. Bella, bella. Ok. Che se fa, buono? Che se fa? Che se fa? Oddio. Come si finisce, buono? Che cazzo sembra? Pezzo di smeraldo è andato a male. Allora, allora. Ma, tipo... Eh! Oh, sì. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Andiamo su Mind. E facciamo un bloccante. Mi sono iscritto al tuo canale. Grande. GRS. Pantino. Grande. Così. Ti stimo. Lì, sì. No, siete troppo forti, ragazzi. Voglio sempre il live, ragazzi. Sempre. Allora, facciamo un bloccante, ragazzi. Questa ci mette agitazione. Peggio di cosa che roba. Ciao, guagliadino. Oh, bello. Ciao. Eh, comunque c'è gente, c'è gente, dai. Spero che si riempia abbastanza velocemente. Ovviamente facciamo gli AIDAR, eh. Ti prego, ti prego a dare. Ok, se no, AIDAR team, o... Non lo so, sinceramente. Siamo in 6. Va bene. Se lo credite, Master Fire, dici quello che vuole. Allora, dai. Facciamo una cosa. Proviamo un attimo. Mettite il time in time out. Funziona? Si, ho messo il time out. Oh, che bello. Adesso anche io utilizzo queste cose, perché... Va bene dire un po' di cavolate, però dopo un po' ragazzi... Direi insultare... Soprattutto potete insultare anche me, ma se insultate altre persone che riguardano me, mincavolo. E vi metto il time out. E se lo fate di nuovo, di blocco. E la fai creare, semplicemente. Quindi, Master Fire. Dico, ciao e... E basta. Fai della tua vita quello che vuoi. E insulta le persone. Va bene. Adesso possiamo andare avanti. Alessandra, bello. Meglio abitare in Sardinia che in continente. Però per il fatto che la live diminuisce l'audio del game e aumenta il volume del microtele. Ah, del game. Ok. Aspettate, adesso vedrete un attimo strano. Volete che aumenti questo? E diminuisca questo. Ok. Allora, mi sentite... Cioè, almeno a me mi sentite, regà. Adesso vi provo un attimo. Ok. In teoria adesso... Ho messo un attimo così, regà. Ok, adesso vedete tutto full adesso. Perfetto. In teoria dovreste vedere... Vedere. Vedere e sentire meglio. Il brusio del microfono c'è comunque, regà. Mi spiace, giuro. Vorrei toglierlo. Devo ordinare su Amazon un microfono. Uno anche scacciola. Uno che almeno... Bucavada. Però regà, qua nessuno si entra. Quindi andiamo nella roba e scegliamo qualche altro minigame. Voi che si chiama? Sciallo. Stai calmo. Cioè, quipe. Non è che devi agitarti, cristitino, eh. Guardami. Allora ragazzi, ditemi voi chi siete in live. Cos'è che volete vedere? Anche se non sono capace, eh. Però... Ci provo. Non c'è Evolution? O Dragons? C'è qualcuno in Dragon? Ci sono le lobby. Ci sono, ma non c'è nessuno. È più che altro che fare... Ti sento benissimo e vedo bene. Madonna, GR71 è che... Madonna è... Madonna è... L'iscritto dell'anno, della vita. Lo vogliono tutti. Io lo voglio. Tutto mio. Allora, io direi... No, no. Spielbuilder. No, c'era... Come si chiama? Evolution? C'è Evolution, regà? Si è indovinato bene. Trovo Evolution. Vado a fare. Castor Mixed Arcade. Raga. Ora va benissimo. Ok, perfetto. Grazie. Grazie Alessandro. Si chiama Alessandro, va. Proviamo a fare un mix... No, cos'è? Un survival game. Speriamo che ci sia gente. No. Un coppia? Giusto di fare le live di notte, regà, è che se vai a giocare non ci sta molta gente. Ci sta poco, poco, poco gente. Raga, non so che fare. Snake? Dimmi che ci vuoi... Snake. Buono, regà. Non c'è nessuno. Super Paintball. Ma dai, non c'è nessuno. Ragà, torniamo nel vecchio coso. Bedwars. Voi sapete le Bedwars? Ok, TubeFanny. Si dice... Ok. Che stiamo a caccia? Non so, è Pixar, regalo. Dai, se volete le Bedwars, vi accontento. E' proprio dovevo andare alla lobby. E andare a Bedwars. Ok. Dai, anche io... Dai, facciamoci un parco di Bedwars, dai. Bedwars, Bedwars, Bedwars. Oh, io provo, ragazzi. Io provo a farle da solo, ma faccio schifo. Oh. Ok, TubeFanny. Sì, 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 ci sono, ci sono, ci sono, vai. TubeFanny. Eh, allora come non è. Mi si può dire, ah. Proviamo a fare qualche bello. Cosa? Grazie. Si, per Bedwars. Vai su The Hive e fai una delle Bedwars, secondo me. E dopo, dai, dopo andiamo. Dopo vado su The Hive. Penso che... Dopo, beh, adesso facciamo, facciamo uno un po' qua. E poi li provo su Hive. Io su Hive non li ho mai provate, regalo. Mai provate. Sono abituato ai pixel. Ok, regalo. Io ho letto a favore, ma, cioè, non è che ne ho barna. Però mi sono piena di tutti i diamanti. Ok, sui pixel sono più bella. Ok, perfetto, Alessandra. Ok, allora siamo su Bedwars di Hive. Ok. Che vuoi fare? Ma perché la gente barna subito? Ma non bisogna barrare. Tre secondi dopo, morti. Va bene. Dai, 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 dai. Bardiamo, bardiamo, bardiamo. Facciamo che è un legno. La mia pratica è legno. Io lo vedo che sia la pratica di tutti, sinceramente. Però, vabbè, intanto lo diamo con il legno. C'è, perché questa mappa non è che mi gusta molto, sinceramente. Non mi piace. Però, vabbè. Ci accontentiamo, eh. Questa volta. Ci accontentiamo. L'acqua ha già fatto un brutto volo. Domani mi fai una live? Se volete, sì, regalo. Per stare tranquillo, eliminare i tuoi vicini. Sì, sì, sì. Allora, guarda se, regalo. Lo so che... È da un po' che non faccio io perché non gioco, però... Per fortuna. Sono quella propria. Devo sempre bardare, regalo. Perché mi dà fastidio vedere... Il letto. Raga, però se volete, domani vi faccio un'altra live, eh. Tranquilli. Voi posso fare solo di notte, mi spiace. Non so se voi state di notte. Io posso fare per adesso solo di notte. Per adesso. Per adesso. Adesso andiamo a ammazzare il nostro amico, eh. Vediamo un piccone. Ok. Il nostro amico che ha fatto, eh. Legno. Beh, vabbè, allora andiamo. Ok, faccio un piccone per sicurezza. Ma in teoria andrebbe a servire. Oddio, oddio. Ma che cazzo è? Ma chi sei? Ma... Ma porca caccia vecchina. Allora domani posso giocare con te. Sì, sì, se vuoi, sì. E tanto sono morto. Dove sei, Bufu? Ma che ha fatto? Ah, ma... Ma che ha fatto? Ma studio. Ma chi è lui? Ma è uno in live? Ma no. Aspetta. Vedi che colore sono io. Sono rosso. Hai visto? Ah, me l'hai distrutto a letto, eh. Vabbè. E raga. Ci abbiamo... C'ho... Ho tolciato io giù nel GR71. Era meglio fare fuori prima il tuo avversario. Ok, io ci sarò domani. Perfetto. Ma perché gli faccio solo feigno via? Ma perché? Vabbè. Ehm... Ti ammazzo, eh. Ragazzi, voglio ammazzare malissimo. Ci ammazza, eh. Però voglio ammazzare. Poi dove non ha neanche armatura. Sei una persona cattiva. Ci guardiamo, ovvio. Hello. Non per sembrare che lecchino. Dato che tu sei molto simpatica e molto diretta, ti seguo ogni giorno. Dato che sei pure sardo, top. Vabbè, grazie mille. Alessandro. Che bello. Fa saltare a venire. Ciao, eh. Mosca. Ma salve, davvero. Ma guarda che... Madonna, mi sta facendo cadere. No, raga, ci ammazza, dai. Ci ammazza. Dai, qualcuno mi aiuti. E non ha blocchi. Che cosa vuoi fare? Mi hai già ammazzato. Andiamo, andiamo. No, 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 no. No, no, no. No, dai, sei stronzo. Sei... Ma porca di quella. Ma porca. Dai. No, cristi Dio. Cristi Dio. Cristi Dio. Eh, raga, muoio. Muoio per forza. Muoio per forza. Puoi lasciare il vero minecraft di... Il vero minecraft link. Perché il vero... Il vero minecraft? Non è nel link il vero minecraft, scusate. Non è che... Non ho capito. Non ho capito. Puoi lasciare il vero minecraft link. Sì, ma quello lo faccio dopo quando carico... Perché questa, questa... Raga, questa la lascio. Come live. Cazzo, la live che... Mi piace... Siete... Tanti... Cioè, permettersi di tanti, eh. Cioè, sette rispettatori ne ho mai raggiunti. Sembra un po' da sfigati, però non ne ho mai raggiunti, raga. Quindi, guarda, questa live la lascio perché è molto bella. Mi piace molto. E ne ho fatta la... Ah, l'ho restartata, raga. Sì, dopo lo metto quando... Quando la carico. Metto il link del minecraft. Spark Legend. Comunque, ciao Spark Legend. Comunque, io, ragazzi, saluto tutti chi commenta. Saluto. Allora, per adesso. Per adesso. Siamo in pochi, io. Saluto. Defend your band. Eh sì, your band. Se ce la facessi. Sono pink, ragazzi. Basta, vinciamo. Sì, io, io adoro rosso, non è vero. Però è molto bella rosa. E facciamo una... Un party. Eh... Dipende. Un party. Ah, vuoi fare proprio slash party in minecraft? È un uomo. No, dopo... Dopo c'è troppa agenzia. Credo che anche te riesca a capire proprio se c'è gente che vuole altro, gente che vuole venire. Proprio è un casino. Quindi, Massimo, vi dico la lobby, se volete. Vi dico la lobby e... Cerco di farvi entrare. Allora, almeno giochiamo un po' tutti insieme. Che è più figo, sinceramente, perché... Di fare così... Ma non voglio. Allora. Questa... Sta già pardà. Ma che stessi sento? Dio adesso... Oh, faccio un... Ragazzi, faccio una cosa di quelle... Che vedo sempre nei... Nei video di step-by. I barda, cazzo. Bello piccone. No. Qua è un piccone. E va a ammazzare. E la va a ammazzare anche qui, eh. Dai, proviamo. La stessa cosa. Puoi lasciare Minecraft il link perché io ve lo scarico su Aptoide. Vi fa... E non ha... Licenza, però quello gratis. Minecraft. Su Aptoide. In teoria... Non credo che ci sia... Minecraft... PC su Aptoide. Senza, questo non lo so, raga. Ma questo è quello per PC. Quello che dici tu è per Android. Ah, ecco, vedi. C'ho una giola. Grazie, Alessandro. Che... Che gli aiuti perché... Certe volte non capisco neanch'io. Che fail. Allora. Abbiamo la spada e altri blocchi, raga. In teoria dovrei riuscire a dare... Ad ammazzare quel bufu. Che non è ancora venuto di qua. Quindi, raga. Se riesco... Ma veniamo da dietro. A me piace andare da... Da dietro il culo, perché... Perché sta... Perfetto, sta venendo diverso di qua. Ma che ha finito i blocchi? Lo sta laggando. Vediamo che sta laggando. No, non sta laggando. Non sta laggando. Oh, se... Se sta se... Cos'è? Every... Time to Minecraft. What the fuck? Perché è caduto? Buono. Lo vanno a ammazzare. Oh, oh, oh. Non si accorge, non si accorge, non si accorge. Ah, bufu. Ma cosa pensavi di fare? Ma cosa pensavi di fare? Ma cosa pensavi di fare? E se muoio. Ok. Oh, raga. Siamo forti. Siamo forti, cazzo. Siamo forti. Dopo, fatti armature in iron. Assolutamente. Eh, guarda. Me la faccio uguale a lui, così, proprio, lo... Non so come si dica. Però, vi faccio vedere che sono io che comando. Ragazzi, ho davvero ucciso un team, non ci posso credere. Non ci posso proprio credere. Mi stavo di morire, però, guarda. E non ci crede avanti, minchia. Eh, non sono pochi, eh. Non sono pochi. Ok, allora. Allora. Ragazzi, per forza. Mettiamo anche di zattrapi, tanto per sicurezza. Perfetto. Direi che con è qua. Blocchi qua. Sai cosa? Ma andiamo a ammazzarli, va? No, ti posto paura che qualcuno mi ammazzi. Quindi direi di fare delle team, metti. Allora, facciamo una team, metti. Gli altri riesce qua, perché probabilmente moriamo. Dopo facciamo una matura, grande. Ovvio, DR71 ti ascolto sempre. Allora. Blocchi ce l'abbiamo. Piccone team, metti. Potremmo andare dal white. White che c'è ancora, quindi, per adesso, eh. Ragazzi, lagga. Potrei arrabbiarmi tanto. Io sono uno che si arrabbia tanto. Purtroppo. Se lo shift o la connessione mi ceda la morte, Bencavolo. Troppo, bencavolo. Perché il white credo che non sia in base, forse. Non è in base. In base o non base, gli faccio fuori il letto. Perché? Se li faccio il culetto. Dai, 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 cavolo, dai. Fa sbilla, fa sbilla. Non so, fatti da dare. Qua non c'è. E ragazzi, il secondo letto è andato a farsi in zuppola. Quasi, quasi, però. Quanto che potrebbe servire. Un piccolo archesto. 8 frecce, però, vabbè. Mortacci mia, no, mortacci mia, no, mortacci mia, no, mortacci mia, no, mortacci mia. No, regà. Ce lo fa fuori sicuro, però. Dovremmo ucciderlo, eh. Ce lo fa fuori sicuro. 3, 2, 1. No, dov'è? Cazzo. Non è che team siamo, no? Non è che team siamo? Siamo il pink. Ah, ma è questo il nostro... Eh, è white lì. Vabbè, ma chi era? No, regà, non ho capito cosa è successo. Vabbè. Allora. Perfetto. Dovremmo esserci. Ok, ok, ok. Ok. Raga, abbiamo l'arco. Abbiamo anche... Potremmo farci un po' di stretch, eh. Molto positivo. Ragazzi, però nella prossima live metto un po' di musica sottofondo. Che ne dite, eh? E diciamo che... Mi stanno cadendo le palle. No, eh. Ragazzo, eh. Ma sei buf. No, io ti odio, io ti odio, io ti odio. Gioi, no, mortacci. Ragazzi. No, abbiamo perso un'altra. Dove sei bufù? Oh, cazzo. Oh, cazzo. Scappa, scappa, scappa. Boh, non mi caga. Però intanto mi ha ammazzato. Va bene. Dai, vieni qua. Guarda che... Ti ammazzo, eh. Ci ammazzano insieme. Anfì, cazzo. Ma vaffanculo. Vaffanculo, regà. Sono nella merda. Muoio, muoio, sicuro. Muoio, sicuro. Muoio, sicuro. Muoio, sicuro, regà. Muoio, addio. Sta dal grigio, eh. Aiuto. Eh, mi ammazza. Ragà, ragà. Oddio, che cazzo è successo? No, no, no. Ho paura, ho paura tantissima. Ho paura, che cazzo è successo? Come ho fatto? Cosa ho fatto? Come, perché? Il quale? Perché? Cosa è successo? Aiutatemi. L'ho ammazzato. Lui aveva l'armatura in diamante. E aveva la spada di ferro. Non aveva vita. Oddio, risto, ragazzi. Lasciate un like per la proagine. Per la proagine. Un like, ragà. Adesso muoio dal fondo, miga. You're bad. No, I'm not too bad. No. Letto mio. Io ti amavo con tutto il cuore. E sei stato distrutto. Spada. Quanto, ragà, ho messo. Probabilmente moriamo anche cadendo a casa, probabilmente, però. Sono soddisfatto di aver ammazzato quella testa di zucca. Allora. Ora, oggi pavo l'arco con 8 peggio, ragà. Questo è bene. Non arriva a nessuno, no? Ok. Probabilmente, ragà, non la vinciamo, perché io non sono un progetto. In questo gioco, però. Possiamo provarci. Possiamo provarci. Direi, ragà. Ci prendiamo un po' di roba. Se riesci, vai veloce. Compro, prendi 8 smeraldi. Ti fai l'ossidiano. E poi pensi... Eh, Alessandro. Un po' tardi. E guardi il letto, così è più difficile. Vedete lo spaccino. 310%, grazie. Eh, Alessandro. La prossima volta lo faccio. Anzi, forse la prossima Bedworth. Anche se è molto difficile prendere subito. Dopo ci provo, però, dai. Dopo ci provo. Provo un po' le vostre tattiche. Allora, utili. Adesso andiamo a un po' di ice. Già finito. Due ne ho. Sono a po'. No, no, dai, no. Sì, sì. Ma tu, ma... Sì, è inutile. Sì, è una cosa inutile. Dai, raga, ho sbagliato. Sto prendendo l'altro. Perché faccio i fail? Ok. Posso metterlo qua. Ok. Posso prendere le mie altre frecce. Molto utile. E adesso andiamo a fare pulire gli altri. Credo. Cerco. Ci provo. Ok. Raga. Che è rimasto? Che è rimasto il diello che è da uccidere immediatamente. Il rosso, il blu e il verde. E tanto voglio qua nel ponte, eh. Poglio in mente. Allora. Ti direi, facciamo qua. Mi sono ancora collegato. Quasi qua sì, cerco di prendere un po' di... Come dire. Un po' di smerald. Ci provo, eh. Tanto muoio. Però vabbè. Oh, qua c'è uno smerando. Mi piace uno smerando. Un po' di smerando. Eh. Due, due, due. Uh, raga, forse riusciamo a prendere un po', eh. Se non c'è nessuno qua al centro. Vai, vai, vai. Fai delle miele d'oro. Giusto. Appena faccio questo giro mi fanno... Madonna, raga. Non dico che la vinciamo. Ma se la vinciamo... No, 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 no. No, 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 no. Chi è quella persona brutta? Squiddy? Perché c'è Squiddy che gioca a Minecraft? Squiddy non gioca a Minecraft. Vai sotto il mare. E gioca. E gioca con Spongebob. Fai delle mie d'oro? Ciao. Ciao IvanTheGamer94. Benvenuto in live. Questa live è epica, proprio. Che fa schifo, perché... Sono già... Poi a vedere quanti big game sono fatto e sono morto e rimorto. Ragazzi, possiamo farci l'armatura? Oh, togliamo l'otto smeraldi. Che bello. Che bello. Sola valice. Oh, che bello. Ragazzi, piace il mio nuovo look? Molto bello, ne? Molto, molto bello. Ok, andiamo... Non facciamo le cazzate e andiamo a battare i tazzoni. Anche se la spada. In più non andava male. Che posso fare? Posso fare questo? Cazzo, per un diamante. Oddio, pensavo che ci fosse qualcuno. Io mi prendo... Bele tinnetti, raga. Mi prendo i stilessi, perché sono una cosa odiosa, stilessi. Ok. Se riesco... Tanto mi porto tutto a presto, tanto... Probabilmente... Ragazzi, voglio... Aspetta, ma... Forse ci sono due smeraldi lì. Ragazzi, sto giocando con l'ansia. Madonna, porri cadere. Porri cadere, troppa porri cadere. No, c'è uno. Da quanto? Ok, il rosso è lì. Dai, raga. C'è un cuore giallo. Mi scrivo. Grande Ivan. Grande Ivan. Sei il pro con te. Mi scrivo. Fai le mani al forgio in casa e fatti la spada in diamante. Vabbè, uomo. Io sono coraggioso. Gli vado a rubare sti pezzi di sveglalda. Faccio il culo a tutti adesso. Adesso stai montando tanti diamanti per, madonna, per upgradarmi. Bella raga, bella raga. Quanti? No, 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 porra caccia ci manca. Io sto a paura, ragazzi, sto a paura di cadere. Io ho troppa paura. Tipo uno mi freccia. Madonna. Madonna, se uno si... mi freccia. Quanta paura, raga, quanta paura. Ho troppa paura. Dai, raga, ci possiamo fare. Una spada. Oh, yes, baby. Una filatezza uno che adesso diventerà filatezza due. Bombage, no? Io maxed. Cosa maxed? Quanto sei semo? Ecco. Questo così quasi potrebbe servire, eh. Vabbè, io non posso, ma sei stronzo. Ok, raga. Anche se... Piccoli... Sto cercando di prepararmi bene. Ci facciamo un piccolino in diamante e andiamo, dai. Cazzo c'è, dai, cazzo c'è. Il tuo massimo la perdiamo. Il tuo massimo la perdiamo. Vai, 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 vai. Perché? Perché andi? No, uomo. Se vuoi, iscriviti. Se vuoi. Guarda, purica. Quanti siamo? Siamo 32. Mi iscrivo. Perché so, sento che ti sei iscritto. Quindi vado al tuo canale. Mi iscrivo. Ti dici iscritti, uomo. Facili, facili. Vai. Ho ricambiato il tipo di pari, Ivan. Adesso andiamo a fare quelli tutti. Allora. C'è Giallo ancora vivo che adesso vado a ammazzare. Perché i gialli non devono vivere. I gialli dov'è? Bianco. Qua. Non lo vedo. Raga, non lo vedo. Ok, la base sua è là. Donde sta, però? Non è giallo, ma taci, stuola. Quanta ho paura di cadere. Vai. Facciamoci un collegamento per... Si sa mai... Bisogna scappare. Ok. Ah, ecco... No, 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 no. C'è l'arco. Eh. Eh. E coglione. E volevi? E volevi? Raga, faccio cagare con l'arco. Diciamo una cosa, raga. No, raga. Cazzo fa? Eh, ma sei stronza. No, vaffanculo, va. Uh, raga, l'ho beccato. Oddio, quale che cazzo è? Togliamo indietro perché lui con l'arco lì si campera bene. Cioè, facciamoci l'ender pair. Facciamoci l'ender pair. Lo variamo. Mi scherzo, sai che siamo noi? Siamo i pink. Perché siamo l'eciano? Per gli acqua, volevo dire. Boh. Adesso lì ci qualcuno. Scappa, scappa. Corri, 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 corri. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Raga, ci lanciamo la quadra con l'ender pair, vai. Tutta la notte, quando dura, quanto dura la live? Aspetta che distruggi i letti e poi... Ok, ok. Quanto dura la live? Sinceramente non lo so. Io prima avevo 42 iscritti su un altro canale. Raga, se ci arriviamo a 42 iscritti, 5... Invece sta andando, raga. Facciamo il culo. Tutto abbiamo gli smeraldi di aspettare. L'amazzato. L'amazzato. Non lo amazzare. Non lo amazzare. Non lo ammazzare. Non lo ammazzare. Non lo ammazzare. Non lo ammazzare. Quanto sta lagà? Quanto sta lagà? No, raga, sta lagà. Sta lagà. Oh, l'amazzato, eh. L'amazzato, raga, quanto sono felice. Tutta la vita. Io prima non mi muori. Poi mi si è rotto il telefono. Ah, brutta. Ah, quanti si è rotto il telefono. Madonna, madonna. Poi c'è un altro Michele Prisco che metterò. Aspetta l'utente in coso. Raga, devo fare. Io sto seguendo, adesso vi dico com'è che sono messo. Ho il gioco ovviamente nello schermo, però ho la chat della live sul telefono che ho qua in giù. Perché io registro da telefono, ma mi imprimo come YouTube. Bravo, Ivan. Non conta se da computer a telefono. Conta quanto ci si mette dentro il cuore. Io non so se ce la sto mettendo tutta. Sicuramente, mi sto succedendo. Basta divertirsi, gà. Cioè, questo lo faccio per 52. Minchia, quanta cazza. Lo faccio un po', non per hobby, sì, ma per scazzeggio. Tanto la notte che cazzo lo faccio? Vuoi dormire? Faccio la live, raga. Moderati. Chiede che cazzo? Eh, di chiederlo, lo sospiedo un attimo perché, oh. Tanto, fanno quello che voglio. Tanto sono la gente che va in giro nelle live a caso e insulta le persone. Vabbè, chi se ne frega. Ragazzi, non dite nulla a sto Michele. L'hai lasciato in pace perché lui è quello che vuole essere notato. Toglite, toglite di quella roba. Ok. Raga, ho troppa roba perché ho risentata roba. Posso... Perché non posso la buttarci tu? Raga, siamo power. Siamo invincibili. Siamo power, power. Raga. Raga. Boom, bitch. Ah, sì. Faccio anche un po' di... Ma io mi sto potenziando, raga. Ok. Quante robe ho? Ok. Possiamo andare. Ok, raga. Ok, raga. Michele, moderati. Anche tutti impegni da quello che vedo nel tuo canale. Sì, diciamo che ho avuto un po' di disguidi perché prima registravo con il mio amico. Adesso che ho preso il computer, ragazzi, registro con il mio, ovviamente. Non è che ci vuole tanto. Mi manca il microfono, come potete ben sentire. Ma raga, lo ammazziamo. Ammazziamolo, ammazziamolo, ammazziamolo. No, no, raga. Non ci posso credere. Che fail. No, no, no. No, non mi sto impegnando da youtuber. Perché non posso fare sti fail, mi prego. Ragazzi. Adesso mi sto riguardando la live. La telefono, voglio vedere il fail. Cioè. Dai, ti prego. Quanto sono stupido. Ta-ta. Ma porcaccia di quella macchina, mortacci, mortacci. Che fail del cazzo. Vabbè, raga. È andata così. Ritorno nella lobby. Dai, raga, stava andando benissimo. Stava andando benissimo. Giochiamo insieme. Sì, se vuoi, sì, raga. Uomo. Lobby. Se vuoi, ti dico la lobby. Sono nella lobby 31 di Bedwars. Oddio, ma che cazzo è in testa, mortacci mia. Poi, mi sta roba in testa. Reset. XD. Eh, ma dai. Eh, ma dai sì, cazzo. Perché sono... Voglio dire che io sono un ragazzo sbalato. Cioè, proprio, non sbalato. Scemo. E non... Non ce la faccio. Sono stupido. Ma... Mi ha detto che... TubeFanny voleva giocare con me. Io gli ho dato il coso. Non so se... Sei con me. Non so, non so come siamo. Poi vuole giocare con me. Giochiamo con lui. Dai, tanto... Stiamo una notte. Tu guardi gli anime. Una volta li guardavo... Abbastanza. Abbastanza, diciamo. Sì, non è che mi appassiona. Guardo... Beh, Dragon Ball. Pokémon. Poi qualche anime un po' più serio. Anime un po' più serio. Ho guardato Death Note. Però non l'ho finito. Purtroppo. Sei te? Mi conosci? Scrivi se mi conosci. Snowherz. Chi è Snowherz? Fuori di anime. Adesso, comunque... Posso dire che... Dragon Ball is a very very good, ragazzi. Chi non ha mai visto Dragon Ball è un bufo. Ma sei te il... Como? Como? E qualcuno... Non ci crede... Eh, sì, Alessandro... Vabbè. Qualcuno mi scrivesse... Oddio. Non capisco se... Se lui mi conosce. No, adesso no... TubeFanny. Bella. Ok, TubeFanny. Ti mando il party. Party. Snow. World. Perfetto, dai. Facciamoci una con lui, dai. Mi sta divertendo, versetto. Lui. Dov'è, 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 dov'è il mio amicone? Na 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 na. Da na 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 na. Perfetto. C'è un pinguino. Il pinguino più figo della storia. Dai, raga. Sicuramente con... Con TubeFanny. Con TubeFanny ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, vai. Vai, 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 ce la facciamo. Prendi 24 di armi e farti uno stack di blocchi e spada in pietra Provo a farlo, cioè provo 26 No ma uomo io ho la mia roba che devo sempre andare a diamante Quanto basso lo faranno 28 blocchi per andare a diamante Però dai facciamoci uno stack Stack 16 Vado da te eh, guardo io, guardo io Un attimino eh, guardo tutto Un po' di legno, c'è sta sempre Partiamo qua soprattutto Ok, l'ho già andato Ragazzi Uomo Venni scappa Venni scappa Uomo se vuoi andiamo eh, dimmi quando vuoi andare, scrivi in chat quando vuoi andare, si se lo vedo eh, in chat del gioco eh, non la chat della live, allora, devo cercare di arrivare a un tot di cose, di ferro, oddio no 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 no, bene, ok, mi chiedo che voglia già andare perché lui mi sembra molto paura, quindi direi facciamoci una spada e questo. No 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 va sta andando? No ok, gli aiutiamo, gli aiutiamo, gli aiutiamo, gli aiutiamo no 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 arrivo, 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 vai, 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 piccola piccola vai, c'è falco un c***o, c'è falco un c***o, attento, attento, va fa c***o, è un c***o! Hello from me, Heaven Song Mortacci mia Mi sa che Mi sa che consigliare un anime diverso da contare Perché ho appena finito di vedere la prima stagione E sto aspettando il doppiaggio della seconda Allora Il diamine uomo non ne so tanto Però L'unico che mi è piaciuto tanto È Death Note Non so se ti piace lo stile È bello È bello Death Note Attack on Titan Oh avevo provato a vederlo ma Boh Scusate se dico Ma a me non piace tanto Andate Dai Rosa che sono tutti e due al centro Davvero Dai Rosa Ah loro Non mica c'ha ragione Tu Tube Fanny Ti do il libro con senso di fare quello che vuoi Perché tanto ce l'ha come uno Però Io Seguirò GR71 Perché è il mio Idola Però Ma ci sono Ci sono Ci sono Però Loro vanno molto Cazzo però se no non piccolino Sono una merda vero Sì sono una merda Allora Perfetto Vai dai raga Forse riesco davvero ad andare dai purple Se riesco ad andare dai purple rido Vai 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 raga vai raga Pa pà 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 ma è muoio? Noi che team siamo? Siamo i white. Quindi sto piazzando... sto piazzando la lanna bianca e mi chiedo pure che cosa sono... No. Che ora sono sono le 2.17? Grazie, lo guarderò. Ok. Ah. Ah, buonasera, amico mio. Che non so se è buono No, no, raga No, perché non riesco Perché? Perché è bacchato? Non farmi cadere T'ho visto, coglione, non è che non t'ho vista, eh Voi dovete... Eh, no, c'è giallo, c'è giallo, no, c'è giallo No, c'è giallo, no, c'è giallo, no, no Help me, help, oh, it's, help me Non t'attattare più, eh Non t'attattare più Noi siamo forti Noi siamo forti Cerco di interagire con It's my compagno Ok, ok, perfetto Eh, oddio, oddio, no, no Che cazzo sei, ma che cazzo, ma vai, ma vai No, no, no Attacci tua, attacci tua, mamma, attacci tua Hello from me, heaven song Grazie, grazie Lo guarderò Io no, grazie Bene Ok, attacca dove è morita, ragazzi, eh Oddio Allora, ragazzi, ma no, scusa No, tube, non morire No Come ho usato morire Uccidere il mio amico Come ho usato Eh, no, ha ucciso poi da me Hello from me, heaven song Facciamo un altro In teoria dovrebbe venire anche lui Snowball, ok, cioè, dov'è, dov'è, dov'è Scusa, tube funny Come ho potuto bene dire Non sono capace a giocare Ok 3, 2, 1, go Allora, ragazzi Adesso vedo un attimo quanto siamo Eh, siamo ormai a un'oretta Faccio l'ultima Bedwars Ragazzi, faccio l'ultima Bedwars Poi stacco perché devo fare delle robe Scusate, eh, però Purtroppo Vorrei stare, ragazzi, per esempio Devo scaricare un po' di robe Per la Tipo un po' di musichine Da mettere in sottofondo È molto figa Ancora sta pappa No, che panna Guarda, li vado io Tipo, guarda, guarda Adesso tipo cado Rido Rido se cado Ok Ok Oh, cappa Poi i pink Poi i pink Tanto mi stanno sulle palle Vado addosso Io No, regà L'ho guardato L'ho guardato L'ho guardato, l'ho guardato L'ho guardato, regà Cazzo Pensavo di farlo Mentre giochi Mi puoi dire Dicembre Cosa parla Senza fare spoiler Dicembre No, regà Aspetta Aspetta No, aspetta Mi stanno perca Non riesco a leggere con me Oh, donna Che rara Che vincino Vai Aspetta Mentre giochi Mi puoi dire Mi sembra Cosa parla Senza fare spoiler So che C'è un diario Ah, Death Note Che uccide Eee Aspetta Guarda Stai arrivando per gente Mortacci su Ok Death Note Senza fare spoiler Death Note Semplicemente c'è Ti dico un attimo L'introduzione Che sarà il primo episodio C'è sto ragazzo Che si Tipo Annoglia Perché tipo È molto bravo Eee Dopo Oddio Ragazzi Non riesco a introdurvi Un anime Mentre gioco Grazie Mortacci tu No, mortacci tu No, mortacci tu No, mortacci tu No E siamo a morte Anche questa, vero? Iscrivete il mio canale Ancora mi chiede Ma Mi sono giusto Se lo blocco Aspettate che lo blocco Ragazzi Ma è lo stesso di prima Scusate Vedete un attimo a vedere Mi chiede Prisco Mi chiede Prisco Io non ti dico nulla Poi ti blocco Perché se prima tu Rompio un po' le balle No, dicembre Non dicembre XD Cosa non dicembre? Eh ragazzi Siamo morti Come? Perché io sto facendo Di questi kill? Non va bene Non è normale Boh, questa è persa Perché Vedo che baci Vedo che baci Vedo che baci Siamo su morti Eh ma che p***o Eh 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 raga Ma bannano L'ho bannato L'ho bannato L'ho bannato L'ho bannato L'ho bannato Eh Sì sì Alessandro L'ho bannato Regà Dai abbiamo fatto un'oretta In live Doveva essere una prova L'ho visto che c'è stata un po' di gente Dai è stato Non potete dire che Perché ho sempre sta roba io? Perché ho sempre sta roba? Aspettaci mia Sì sta roba Ok Dove è il coso? Dove è fanno il coso? No Non è venuto qua Volevo fare la cosa Siamo al 28 Allora Ma bannano sto coglione? Sì raga L'ho bannato Non ti preoccupate Siamo nove spettatori Per me purtroppo Per questi nove spettatori Ma devo andare Mi spiace raga Raga Ci abbiamo un po' Vi ricordi Non lasciare un like Volevo dire di cosa Non Di cosa? Non dicembre Ivan Ti giuro che non so Di cosa stai parlando Non dicembre Cos'è dicembre? Volevo dire di cosa Non so se mi sta buon Non è che mi sta prendendo per il culo Ma proprio Mi sta facendo un giochettino Tipo Della mente Non lo so Buon raga Eh Gamer Ah eccolo qua Eccolo Ciao Devo fare l'auto raga Fare l'auto C'è un prossimo video? No aspetta Mi voglio riasciare like Commentare Se volete Ovviamente ditemi cos'è che volete Raga Domani che ora fai la live Così ti vedo Vado Vedo dall'inizio In teoria Dovrei riuscirla a fare Da Mezzanotte in poi Raga Buonanotte anche a te Alessandro Perché C'ho la connessione Un po' più power A mezzanotte Quindi Si Purtroppo Solo a mezzanotte in poi Ragazzi Vi ricordo di lasciare un like Di commentare Di condividere se volete E potete iscrivervi Ci vediamo al prossimo video O live Non si sa mai Adio Come se va A chiudere la live Come se va E se lo vedrete Molto strano Prima trasmissione Prima trasmissione